La tranquillità di alba adriatica messa a dura prova da due migranti. Residenti e commercianti esprimono un malcontento crescente che in alcuni casi è sfociato in episodi di violenza. Uno dei migranti, proveniente dalla Sierra Leone frequentemente in stato di ebrezza, ha disturbato in più occasioni i passanti e clienti nelle aree commerciali vicine alla stazione ferroviaria. I titolari dei bar della zona hanno segnalato ripetuti fastidi ai danni dei clienti e viaggiatori con situazioni che hanno raggiunto il culmine in violenti confronti fisici, incluso l'uso di bottiglie come armi. Parallelamente, un altro migrante ha causato scompiglio lungo il lungomare, entrando in bar e ristoranti e comportandosi in modo sceno, arrivando a spogliarsi davanti ai clienti. Questi atti hanno provocato non solo repulsione, ma hanno seriamente messo in questione la sicurezza pubblica e il decoro urbano. Gianmarco Giovannelli, presidente della Confcommercio di Albadriatica, ha rilasciato dichiarazioni forti sulla necessità di un intervento decisivo. Non possiamo tollerare ulteriormente questi comportamenti che stanno minando l'operato delle nostre attività commerciali. La tranquillità dei cittadini ha detto è imperativo che le autorità prendano provvedimenti immediati. Sebbene i due individui siano noti alle autorità locali e ai servizi sociali, la loro gestione rientra nella competenza del comune di Rosetto degli Abruzzi, complicando gli sforzi per un intervento efficace ad Albadriatica. La comunità ora chiede che vengano presi provvedimenti severi come l'emissione di un foglio di via obbligatorio e far sì che due uomini siano affidati ai servizi sociali per evitare ulteriori problemi. Operatori turistici e cittadini chiedono di ripristinare la sicurezza e salvaguardare la serenità che i cittadini di Albadriatica meritano.